Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Visto che in tanti me l'avete chiesto, ed era già un po' di tempo che lo dovevo fare, scusatemi se ho ritardato, ma c'è stato veramente tanto lavoro da portarvi e da presentarvi sul canale, l'avete visto qui dietro in libreria, oggi vi voglio presentare Wolfenstein, il board game a cura dell'Arkon Studio, anticipo ma tanto conoscendomi, ve lo dirò tipo cento volte nel corso dei video, cercherò di dirlo il meno possibile, in versione prototipo, perché quella che vedete qui davanti non è assolutamente la versione definitiva, ci si avvicina come è tale di gioco, miniature e tutto quanto, ma non è la versione definitiva, perché tante persone hanno fatto il kickstarter e mi hanno chiesto come fai ad averlo? È un prototipo, c'è anche scritto grosso sul manuale, sui tale di gioco c'è scritto prototipo, e anche sul manuale, quindi non è la versione che chi ha fatto il pledge del kickstarter riceverà, ovviamente questa è una versione dimostrativa. abbastanza completa, diciamo al 70-80%, però non è la versione definitiva. E c'era veramente da aspettarsi un giocone, come lo è, per quanto le regole ve lo dico nel corso del video. Dopo la sigla. Wolfenstein dell'Arkono Studio, kickstarter di un successo disumano, ha fatto uno sbotto di soldi, ma c'era da aspettarselo, penso non abbia assolutamente bisogno di alcuna presentazione, anche perché è uno degli sparatute giochi storici più belli mai creati. Ragazzi, io lo adoro, veramente lo adoro, mi garba la seconda guerra mondiale, per quanto si è ammettato dopo, mi garba Blazkowicz o Blazkowicz come personaggio, mi garba la storia che hanno fatto finora, e i videogiochi non ve lo nascondo regolarmente una volta all'anno, me li rifinisco tutti quanti, perché mi garbano veramente da morì. È il mio sparatutto preferito. Va per l'ambientazione che per altre cose. E questo qui è un gioco cooperativo al 100%, in cui voi dovete entrare all'interno, ma non solo, comunque nel 90% delle case, all'interno del castello Wolfenstein, e risolvere delle missioni. A differenza del gioco per computer dello sparatutto, in questa versione board game hanno dato più adito alle meccaniche stealth. Potete entrare dentro, siete Blazkowicz, entrare dentro una stanza, fare fuoco e uccidere nemici, ma se inizieranno a suonare gli allarmi, ne usciranno sempre di più, arriveranno a flotte ed ondate e il gioco si trasformerà praticamente in Zombicide. Quindi è rischiato anche di morire, perché la mortalità è decisamente alta, non ci avete 100 punti ferita come nel videogioco. Quindi occhio e cercate di giocare stealth, perché le meccaniche del gioco stealth sono fatte molto bene, ve l'ho detto, questo più che un gioco d'azione, è un gioco che ci riporta indietro al vecchio Wolfenstein, più che a quello nuovo, che è solo Wolfenstein, che sì, era più un gioco stealth che non altro, perché lì veramente con uno o due colpi si rischiava di morire. Vi faccio vedere un po' come funziona, ma prima di tutto, unboxing. Confezione del gioco, con Blazkowicz che si nasconde da un Mecha Hitler, veramente spettacolare. Questa dovrebbe essere la moglie, se non mi ricordo male. Gioco da 1 a 4 giocatori, cooperativa a 60-90 minuti, vi ricordo proprietà della Bethesda e gioco dell'Arcon Studio, che ringrazio ancora di cuore per avermi fornito questo prototipo. Apriamo. All'interno c'è un po' di roba, che è roba tutta quanta in prototipo. Ci sono le miniature dei nostri eroi, ci sono tutti quanti. Poi qua giù ci sono i cani robotici, poi qualcosa vi faccio vedere nel corso della spiegazione. Ragazzi, la qualità delle miniature veramente si sono battuti. Si sono battuti, la qualità delle miniature sono bellissime. Poi i dadi, fatti un po' così, vedete, nemmeno colorati, né definiti, né niente, perché sono proprio prototiponi. Oh, tra l'altro ne sono usciti un pochino, quindi non c'è la figura dentro colorata. Però comunque si legano facilmente. Altre miniature che c'è dentro, guardate, è pieno zeppo di miniature. Ci sono anche boss, c'è il Mecha Hitler, eccolo qua. Guardate qua, Hitler con l'armatura potenziata addosso, è veramente spettacolare. E in più, una figata che ci hanno messo, del Kickstarter ci sono anche grate, vedete, del castello Wolfenstein, e le porte che si aprono. Le porte, una volta che le avete aperte, si sfilano e si aprono per davvero da sopra. Levate questo pezzo e si sfila la porta che diventa aperta. In più, se fate il Kickstarter, c'è anche tutta la mappa in 3D. Addirittura mura, pareti, cose del genere. Questo è uno dei Kickstarter più belli mai fatti, veramente. C'è uno sbotto di roba. E poi, alzando qua sotto, sempre anche la scatola un po' distribuita così, ora vi faccio vedere, c'è il libro delle missioni, che ne comprende un bel po' per iniziare la vostra avventura, ma comunque ve le potete anche andare tranquillamente a ricreare anche da voi. Il rulebook, quindi il regolamento, che è facilissimo e poi ve l'ho detto, ricorda molto da vicino Zombicide, quindi le regole una volta lette sono anche facili da interpretare. E tutte quante le stanze, i tile di gioco, vedete, c'è scritto prototipo. Per ricordarlo, anche perché ci fosse qualche furbacchione di recensione, che la copia se la vuol vendere, c'è scritto prototipo sopra, quindi questo qui è materiale assolutamente di uso, soltanto per farci una recensione per la stampa, quindi è materiale che non deve finire in commercio. Su tutte le cose, anche sulle carte di gioco, ad esempio, c'è scritto prototipo. Sulle carte dei nemici c'è scritto prototipo, insomma, da tutte le parti. Poi il contatore del round, qua giù ci sono le carte eroe, e poi tutti quanti i token, punti feriti e cose del genere. Vi ricordate Max Haas, che era quello che per colpa di una granata ci ha rimesso a metà testa. Ci sono tutti quanti i personaggi del gioco, più tutti quanti i nemici, che le carte sono qua giù. Le meccaniche sono praticamente, ci ho rivisto, Zombicide. Sono veramente le stesse di Zombicide, un po' come vi ho fatto vedere anche in un altro gioco, Endure The Stars, sono molto simili, perché avete un tot di movimento, un tot di azione che potete fare, i personaggi sono diversificati a livello di equipaggiamento, che potete comunque trovare nel corso della missione e tutto quanto, e i nemici sono molto diversificati. Le meccaniche stealth sono quelle di Zombicide, ovvero se fai un attacco in corpo a corpo, non generi un token suono, a meno che non usi un'arma particolarmente rumorosa, se usi un'arma da fuoco, generi un token suono, sia nel punto da cui parte il colpo, che nel punto dove arriva, perché magari poi il nemico potrebbe urlare per il dolore, cadere per terra, insomma, va a generare rumore. E quando si va a generare rumore, c'è la possibilità che nemici, nelle vicinanze odano il rumore, vengano verso di voi, e a quel punto lì si attiveranno soprattutto gli allarmi, attivandosi gli allarmi, o le disattivate, o iniziano ad arrivare veramente ondate di nemici sempre più potenti. Una missione la potete giocare anche tutta stealth, e i nemici fondamentalmente saranno quelli che trovate nella mappa. Fra le azioni c'è ovviamente l'azione di muoversi, di sparare, di aprire porte, di interagire con l'ambiente, quindi obiettivi e cose del genere, perché le missioni sono obiettivi, non è che dovete ammazzare tutti quanti, dovete risolvere l'obiettivo principale, che magari potrebbe portare anche obiettivi secondari. Nel corso delle missioni ci sono anche a volte delle specie di side quest. Ed è interessante la meccanica, perché vabbè, è un normale, alla fin fine, è un gioco cooperativo, quindi non c'è tante meccaniche complesse, si è attremato un attimino la gatta che mi ha toccato la telecamera, il video sta funzionando bene, e quando fate rumori, ve l'ho detto, c'è questa meccanica, quindi è un gioco particolarmente stealth. In nemici c'è la linea di visuale, cosa molto interessante che mi ha garbato da morire, perché c'è da vedere dove sta vedendo il nemico, perché se il nemico sta facendo la pattuglia e guarda verso il muro, il fronte è indirizzato verso il muro, quindi se gli arrivate dal lato, lui non vi vede, ed è il momento migliore per prenderlo. E poi c'è l'intelligenza artificiale, che magari il nemico non è che fa il giro della stanza, sempre uguale come nel videogioco, e dovete soltanto aspettare tempo, magari si muove in una direzione, e nella fase dei nemici potrebbe cambiare direzione e venire verso di voi, quindi dovete comunque affrettarvi e fare le vostre migliori mosse. Lo potete giocare anche a sparatutto, si complica maestosamente, perché vi ripeto, si muore facilmente, qui due colpi andate a segno da parte dei nemici e vi ammazzano, e ci hanno anche una bella mira, è un po' come giocarlo in modalità hardcore, quindi occhio, è anche vero che è un gioco, alla fine viene da uno sparatutto, quindi tonnellate di dadi, sparate, fuoco, ammazzate tutti con lanciafiamme, bomba a mano, mitragliatori, però insomma i nemici sono potenti, anche perché non ci sono soldati normali, ci sono i cani, vi ricordate i cani robotici, c'è il mecha hitler, come boss finale, c'è Hitler su un mech, da battaglia, roba veramente fenomenale, poi ci sono anche quelli grossi, tipo gli scafandri, quelli giganteschi, che non li buttate giù, manco per il piffero, con le armi normali, lì ci vogliono granate, bombe, bazooka, e cose, o anche lanciafiamme, quindi non è un gioco semplice, ecco, le meccaniche sono facilissime, però veramente c'è da centellinare una singola mossa, e c'è da muoversi stealth, perché se scattano gli allarmi, e non ce la fate, o a disattivare l'allarme, o a uccidere magari un ufficiale nazista, per disattivare gli allarmi, o magari allo stesso tempo, obiettivo di una missione, rischiate di fallire, è un gioco difficile, non è il gioco per computer, quindi calcolate bene, in conclusione, è un gioco per tutti, ed è un gioco ancora di più, per chi ha apprezzato, zombie side, perché le regole, ve lo giuro, leggevo il regolamento, infatti non c'è niente, di innovativo nelle regole, ragazzi, è zombie side, come Endure the Starts, con qualcosina in più, però il regolamento è quello, praticamente è quello lì, stessa osa, il rumore, è un rumore che attira animisce, o meglio i zombie uguali, però è divertente, è evocativo, e le miniature sono bellissime, ripeto, quello che vi ho fatto vedere, sono in prototipo, alcune da assemblare, non tutte, però alcune sono da montare, però ragazzi sono bellissime, è riprodotto veramente da paura, e se siete fanatici di Wolfeinstein, una volta che sarà uscito, lo dovete fare, purtroppo non vi sto a consigliare, dove comprarlo, perché è inutile dirvi da Get Your Fun, non ce l'hanno e non si trova, perché è un Kickstarter, soprattutto un prototipo, quello che vedete qui davanti, quindi magari aspettiamo, tanto uscirà sicuramente in versione retail, o magari faranno un late pledge, o un altro Kickstarter, e in quel caso lì ve lo comunicherò, e ci farò un altro video, per ricordarvi insomma, di comprarlo, perché è veramente una figata, consigliatissimo, io vi lascio il link in descrizione del Kickstarter, non penso si possa ancora fare, però a volte ci fossero aggiornamenti, e riaprissero un late pledge, almeno siete belli, pronti, fatemi sapere un po' cosa ne pensate, ciao ragazzi, alla prossima!